Siamo dato Gesù Cristo, pace e bene. Siamo ora alla quarta domenica di Pasqua, dopo Pasqua, e al centro c'è l'immagine di Gesù. Buon pastore, è un classico, spesso veniva chiamato la domenica del buon pastore. Vediamo un poco che cosa ci dicono le letture, perché la prima lettura è degli atti degli apostoli, come al solito per ora, leggiamo quello che accade in questa comunità dopo la morte di Gesù. Questa comunità spaventata, chiusa, ora si comincia ad aprire, dopo la risurrezione ha capito qualcosa di quello che era Gesù. Prima non l'aveva capito. I discepoli non avevano capito, erano scappati, frustrati, si erano allontanati. Come succede spesso anche noi, quando non comprendiamo profondamente il nostro essere cristiani, e quindi si lamentiamo, protestiamo, ma poi non ci convertiamo. Ed è questo l'invito di Pietro, quel del Gesù, ecco, dice così, ecco, quel Gesù che voi avete ammazzato, dice, Dio lo ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Signore e Cristo, cioè c'è da parte di Dio un riconoscimento dell'umanità di Gesù, che è Signore e Cristo. E allora le persone che ascoltano hanno un momento di presa di coscienza, ma allora che dobbiamo fare? Dice Pietro, convertitevi, chiedete perdono al Signore, perché il Signore vi accoglie, perché il Signore è il pastore che accoglie. Ed è Gesù che è morto, non tanto per portare la vendetta, quanto per salvare. Io non sono venuto, dice Gesù, per condannare, ma per salvare. Ecco, questa è la consapevolezza che noi dobbiamo avere. Ma questo richiede da parte nostra prendere coscienza del nostro male, dei nostri limiti, della nostra violenza, di cui noi siamo affetti, insomma, più o meno tutti siamo un po' violenti nei confronti di chi ci sta attorno, a livello di rapporti interpersonali, anche a livello mondiale, le guerre, le uccisioni, le prepotenze, le ingiustizie. C'è una forma di violenza che viene attuata. Gesù è il buon pastore, lui viene, ecco ci dice il Vangelo, viene e non usa violenza con le sue pecore. Di fatti dice, ecco lui non usa violenza perché dialoga, perché parla, le accompagna le sue pecore. E chiaramente è una parabola simbolica questa con cui Gesù si rivolge alla gente. Io sono il buon pastore. e dice così, il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. Cioè è un'attenzione personale. Ognuno di noi non può dire che siamo una massa di miliardi e quindi ognuno li chiama per una per uno. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, cioè si fidano. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. E perché ci sono i briganti, perché ci sono i ladri, ci sono quelli che sfruttano, perché c'è il male in questo mondo. Quindi ci sono, c'è Gesù che è il pastore e ci sono tanti pastori che seguono Gesù e quindi che vivono il loro ruolo non come un potere che diventa un dominio sugli altri ma come un accompagnamento perché ognuno possa realizzare pienamente se stesso. Cioè, invece ci sono alcuni, dice Gesù, che non entrano, ecco, sono i briganti. È un ladro. Chi non entra per la porta, ecco, delle pecore ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Gesù poi stesso dice, io sono la porta e attraverso di me ed ha lasciato alla sua chiesa questa eredità. Ecco, quello che lui è, il suo stile, l'ha lasciato alla sua chiesa. È questa chiesa che siamo noi, ma noi siamo inadeguati. Questa chiesa dove ci sono diversi servizi, diversi ministeri, in cui ognuno svolge un compito perché c'ha un carisma, c'è un dono che deve mettere a frutto non per se stesso ma deve metterlo a frutto come servizio alla comunità. Sia alla comunità credente, di coloro che credono, ma sia anche alla comunità civile. Cioè, noi siamo chiamati a questo compito. quindi svolgere un ruolo non di dominio per cui gli altri mi servono e io li domino e li costringo e li uso e li ne faccio quello che voglio. Insomma, tutti devono obbedire. Invece, siamo chiamati tutti a svolgere un servizio. Certo, nella chiesa ci sono tanti servizi, tanti ministeri. C'è il ministero dei Vescovi che sono in qualche modo i successori del collegio degli Apostoli. C'è il ministero dei Presbiteri che sono quelli che collaborano e che hanno responsabilità di guidare le comunità. Ma devono vivere, devono guidarle con lo spirito di Gesù. E dice Papa Francesco una frase che ormai è diventata molto nota, insomma, cioè che bisogna avere l'odore delle pecore, insomma. Cioè il pastore, cioè non è un pastore che sta a guardare da lontano e si fa i fatti suoi, anzi approfitta del suo ruolo per fare i comodi suoi, insomma, o per esercitare un potere. Ma è colui che vive con le pecore, nel senso che condivide con loro la sua vita a servizio delle pecore. Perciò dice Papa Francesco dovevano avere l'odore, l'odore delle pecore. Purtroppo non è stato sempre così, i ruoli a volte sia della cosiddetta gerarchia, a me la parola gerarchia non piace perché la gerarchia dice che c'è chi è più e che chi è più di meno. Quello che il Signore a noi ci chiede non è che io ho più potere e tu ne hai di meno, ma che io ho più responsabilità di servizio e quindi lo vivo con tutto questo e devo viverlo con maggiore responsabilità. Certamente chi ha famiglia ha più responsabilità rispetto a chi non ha famiglia, insomma, perché non deve pensare solo a sé ma anche agli altri. Ma tutti ci mettiamo in questa logica di responsabilità. e quindi quello che il Signore ci chiede è che il ministeri, cioè anche il vescovo, il prete, il parroco, non è colui che dice qui comando io, insomma, io sono tutto. No, fuori dello spirito evangelico perché lo spirito evangelico è questa immagine che Gesù ci dà. Così anche il capo di famiglia, la madre, coloro che devono guidare la famiglia, non c'è uno che diventa despota, insomma, quello che dirige tutto, che vuole comandare su tutti perché io sono qui, ecco, ci sono io, insomma, cioè, è questa immagine del pastore perché, secondo me, quando si parla dei pastori non si deve parlare solo tanto di chi nella Chiesa ha delle responsabilità di guidare, ma di tutti coloro che hanno responsabilità nella vita e quindi anche nella famiglia, insomma, sono pastori anche i genitori rispetto ai figli, insomma, cioè, sono pastori tutti quelli che hanno in mano l'economia e quindi devono pensare anche a un'economia che sia a servizio degli altri, sono pastori politici perché le scelte che fanno i politici ecco, devono essere per il bene di tutti, per il bene comune, certo, tutti nei limiti che noi abbiamo, il Papa, i Vescovi, i preti, i capi famiglia, tutto ognuno nel proprio campo, anche nella vita civile, insomma, cioè, ognuno nel proprio campo deve svolgere questo ruolo, ma l'importante è che lo portiamo avanti, questo ruolo, con responsabilità e con amore, cioè, facendoci uno nella fraternità con tutti, ecco, non una volontà di dominio sugli altri, ed è molto delicato questo, perché la tentazione più grande è quella del potere, del dominio, insomma, cioè, quello di acquistare potere, dominio, che sia economico, che sia politico, ma che sia anche di carattere religioso, insomma, dobbiamo stare molto attenti, anche in famiglia, stare molto attenti, insomma, cioè, se non so, perché devo essere prodigato al servizio, insomma, cioè, un ministero significa ad essere servizio, servitore, insomma, ecco, credo che Gesù è colui attraverso cui noi prendiamo l'aiuto, e questa comunione con Gesù che noi viviamo, in cui ci riuniamo attorno alla tavola, come ogni famiglia si riunisce attorno alla tavola, è lì, ecco, c'è l'amore dei genitori, del padre, della madre, che hanno lavorato e che si sono impegnati per tenere questo, così anche, deve essere così anche nella Chiesa, ma così anche nella società, insomma, c'è una tavola che è frutto del lavoro di tutti, ma deve essere per il bene di tutti, ecco, purtroppo noi diciamo queste cose, ma è chiamata alla responsabilità personale, allora come, di fronte a quello che diceva Pietro che Gesù è stato costituito Signore, è Messia, insomma, è Cristo, insomma, cioè anche noi diciamo che dobbiamo fare, ecco, questo è quello che ci spetta a noi, quello che dobbiamo fare, cioè, dobbiamo convertirci a questo, ecco, essere pastori come pastore Gesù Cristo, questa è la conversione, lui è il pastore e noi dobbiamo entrare in comunione con lui ed è confrontandoci con Gesù Cristo che da una parte vediamo il bello della nostra vita come servizio, ma anche i rischi che possiamo correre quando siamo di fronte a Gesù. E allora vi auguro una bellissima domenica nonostante le situazioni che stiamo vivendo in cui la vita familiare ora ha sofferto però in qualche modo ci si è ritrovati di più insieme in questo periodo e dobbiamo esercitare molto meglio ognuno il suo ruolo, il suo compito come un servizio. Vi auguro una buona domenica, sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Gesù Cristo,